Ciao! Hai mai sentito parlare del parto prematuro o parto pretermine? Ti è stato detto che hai una minaccia di parto pretermine o sei a rischio per un parto pretermine e vuoi saperne di più? Questo è il video giusto. Iniziamo! Ciao e benvenuti su questo canale! Se non mi conoscete, mi chiamo Ilenia e sono un'ostetrica. Se invece siete già stati qua, grazie per essere tornati. Intanto, come ho detto, sono un'ostetrica, quindi l'argomento di questo video non è di pertinenza esclusivamente ostetrica. Anzi, il parto pretermine e la gestione della mamma con un rischio o una minaccia di parto prematuro va gestito in un team multidisciplinare tra ostetrica, ginecologo, pediatra, anestesista e tantissime altre figure. Però noi ostetriche assistiamo parti prematuri e comunque posso aiutarvi a capire qualche definizione e a interpretare appunto le linee guida, che sono quelle che ci guidano nel fare quella che è la cosa più giusta, più ritenuta, più appropriata a seconda del caso, a seconda della vostra situazione. Quindi, intanto, a cosa ci riferiamo quando parliamo di parto pretermine? L'argomento è vastissimo. In questo video riassumerò molto e semplificherò molto, però è un argomento che davvero ha tantissimi studi in corso, io anche lavorando in ricerca abbiamo tantissimi studi sul parto prematuro in corso e in programma perché se ne sa sempre troppo poco. Comunque, come parto pretermine o prematuro è uguale, ci riferiamo a un parto che avviene prima delle 37 settimane compiute. Quindi, la gravidanza si considera a termine dalle 37 più 0 settimane in poi, mentre se siete 37 più 0 o meno, avete un travaglio che poi finisce effettivamente con un parto, siete classificati come parto prematuro, più che altro il vostro bambino ha avuto un parto prematuro. Il cut-off invece, questo è il cut-off finale, il cut-off iniziale è dalle 22 settimane, 22 più 0, quindi da 22 più 0 a 37 più 0 o qualsiasi parto che avviene nel mezzo si definisce prematuro. Sul 22 ci sono tantissime differenze, a seconda del paese in cui siamo, a seconda delle curme mediche che abbiamo a disposizione, alcuni paesi considerano 23 settimane, altri 24, e alcuni comunque considerano un parto pretermine anche quello che è tra le 16 settimane e le 22, più che un parto pretermine è un aborto tardivo, insomma, e comunque potrebbe avere dei motivi collegati a dei fattori di rischio per il parto pretermine, quindi la definizione è un po' varia. Immagino che capiate che un conto è avere un bambino a 23, 24, 25 settimane, un conto è averlo a 34, 35, 36. Ovviamente il livello di cure che il neonato dovrà avere è nettamente diverso e noi diciamo con i bambini prematuri ogni giorno conta, ogni giorno è importante, ogni giorno fanno dei milestones impressionanti rispetto al giorno prima, quindi va preso un po' di settimana in settimana lo sviluppo. Perché c'è tutta questa importanza, c'è tutta questa prevenzione e tutti questi studi dietro al parto pretermine a cercare di prevenirlo, perché ovviamente è il singolo fattore di rischio per la morbidità e la mortalità neonatale, perinatale, ok? Quindi avere un neonato che nasce pretermine vuol dire tanto tempo speso in terapia intensiva, tante cure e tanti controlli e sappiamo che gli esiti di questi bambini, nonostante quegli anni fortunatamente, grazie allo strepitoso innovamento dei macchinari e le conoscenze mediche, possiamo fare tantissime cose che fino a qualche anno fa non potevamo fare. Ovviamente un bambino nato a 28, 29, 30 settimane non ci aspettiamo che faccia e sappia le stesse cose di un nato a 33, 34, 35, 36 o appunto a 40 settimane, cioè al termine. E sono sicura che se c'è qualche famiglia all'ascolto che ha avuto questa esperienza, che ha già avuto un bambino nato prematuro, ce lo potrà dire nei commenti quanto questa esperienza sia devastante per la famiglia, è un viaggio molto lungo, ci sono tre passi avanti e due indietro ogni volta in terapia intensiva e i genitori di bambini pretermini sono davvero degli eroi e il viaggio è davvero davvero difficile, quindi tanto di cappello per voi genitori che fate questo viaggio e di nuovo grazie ai fantastici dottori, pediatri, infermieri che abbiamo in terapia intensiva perché si prendono in cura di questi neonatini e a gestazioni veramente precoci e fanno un lavoro eccellente. Mi farebbe tanto piacere se c'è qualcuno all'ascolto che ci vuole raccontare la sua esperienza nei commenti. Andiamo a capire se avete appunto dei fattori di rischio per parto, il parto pretermine. Intanto, come dischile match, c'è da dire che non sempre possiamo prevedere e prevenire delle cose, no? Ci sono dei fattori, dei eventi in gravidanza che sono molto imprevedibili, quindi se avete un distacco di placenta, una preclanzia, un rialzo pressorio importante, questo fa sì che il vostro team debba prendere delle decisioni molto velocemente insieme a voi e il vostro bambino debba nascere prima. Capite che quelle sono situazioni non prevedibili, però ci sono dei fattori di rischio, dei fattori di probabilità che ci fanno pensare che appunto avete più probabilità di avere un parto prematuro. Anche qui la lista è molto lunga e non sarà asastiva, però ve ne elenco alcuni dei più importanti. Intanto, se questa non è la vostra prima gravidanza, avete già avuto un parto pretermine, siete molto più a rischio nella gravidanza successiva. Dipende a quante settimane avete avuto il primo parto prematuro, dipende del motivo per cui avete avuto un parto prematuro l'altra volta, dipende se poi avete avuto altre gravidanze a termine dopo il parto prematuro, però aver avuto un parto prematuro alza in maniera drastica il vostro rischio di averne un altro. Avere delle infezioni vaginali o delle infezioni urinarie in gravidanza può aumentare il rischio di parto prematuro, per questo che vanno curate a seconda del batterio che è presente e sappiamo che i batteri come la gonorrea o la clamidia alzano molto il rischio di parto prematuro e queste vengono appunto controllate in gravidanza, però anche le infezioni urinari o dei batteri che sono magari a volte anche comuni per noi adulti in gravidanza poi possono provocare contrazioni e quindi parto pretermine oppure raccorciamento della cervice, quindi anche questo se avete dei sintomi particolari, prurito, perdite malodoranti, difficoltà a urinare, fatelo presente al vostro curante perché si possono fare dei controlli e capire se effettivamente c'è bisogno di trattare i sintomi. Tutte quelle situazioni in cui l'utero è sottoposto a dimensioni più grandi può essere un rischio di parto prematuro perché ovviamente più l'utero si allarga più poi cercherà di contrarsi e di tornare a una dimensione normale e di conseguenza scattaranno le contrazioni. Quindi sto parlando di uteri in cui magari ci sono tanti fibromi o gravidanze in cui c'è un aumentato livello del liquido amniotico quindi il poliadramnios oppure anche le gravidanze gemellari. Questi sono fattori di rischio poi di nuovo non vuol dire che succederà nulla però ci sarà un attento monitoraggio della vostra gravidanza. Altri fattori di rischio per il parto pretermine sono aver avuto più di una conizzazione quindi quella procedura in cui viene tolta un pezzo della cervice utorina e questo potete capire perché ovviamente la cervice ha una sua lunghezza se già è stata accorciata in precedenza è più sottoposta a accorciamenti repentini avere avuto una conizzazione non è necessariamente un fattore di rischio dipende da quanto del lembo vi è stato tolto quindi è da valutare però averne avuto più di una sicuramente vi espone a rischio più alto di parto pretermine. Il fumo è un rischio di parto pretermine avere un utero bicorneo con un setto può avere rischi più alti di parti pretermine. L'inserzione della placenta anomala quindi se è una placenta che si è inserita previa completamente che copre l'orifizio uterino interno oppure se si è inserita su precedenti cicatrici a livello uterino può essere questa più un fattore di rischio per un parto pretermine. L'età, in questo caso l'età molto giovane quindi sotto i 18 anni e per finire con uno dei rischi più nuovi diciamo in cui si stanno facendo tantissimi studi è aver avuto un precedente cesareo a 10 cm di latazione soprattutto se il vostro taglio è stato fatto nel segmento uterino inferiore. Comunque questi vi verranno tutti chiesti questi altri che non ho monzionato vi verranno chiesti durante l'anamnesi che viene fatta quindi la raccolta dei vostri dati delle vostre informazioni e poi fortunatamente abbiamo diversi modi di sorveglianza per il parto pretermine quindi se siete considerate a rischio di parto pretermine vi verranno offerti dei controlli più ravvicinati e dei controlli diversi di quelli che invece verranno offerti alla popolazione di donne senza fattori di rischio. Magari ci farò un video approfondito sui modi che abbiamo per aiutare a prevenire il parto pretermine ovviamente sto parlando sia di test che si possono fare sia di farmaci quindi volevo sfatare il mito del riposo assoluto, relativo che va molto di moda non è supportato da nessuna linea guida il riposo che il riposo in gravidanza aiuti a diminuire il rischio di parto pretermine ovviamente stare tranquilli durante la gravidanza se avete il fattore di rischio vi aiuta a aver venuto meno rigido a avere meno contrazioni preparatorie quindi ovviamente non si consiglia di fare attività o lavori pesanti in gravidanza soprattutto se avete il fattore di rischio però il riposo assoluto in cui non potete alzarvi dal letto dal divano se non per andare in bagno io spero che piano piano ci stia allontanando da questo modello perché non ha alcuna evidenza scientifica ovvero non c'è nessuno studio nessun dato che ci dice che questo aiuti a ridurre il parto pretermine soprattutto quando poi mi scrivete che siete a riposo da letto a 32, 34, 35 settimane mi dispiace proprio non riesco a capire il motivo fatemi sapere nei commenti le vostre esperienze fatemi sapere se volete un video riguardo a come prendersi cura di un nato prematuro magari per quanto riguarda l'allattamento colostro, tiraggio del latte posso approfondire questi temi senza problemi e ci vediamo al prossimo video ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti